Siamo andando di questa cosa Dai, dai Luca Dai, vi toglie Dai, vi toglie Dai, vi toglie Dai, video No, video addirittura Mi viene l'ansia Ho fatto l'opera Da come lo mangi No, con la Marocona No, la mangi Aspetta, mi do la Marocona No, questa Marocona No, la bymmo No, la bymmo No, sto improvvisando Ma cosa cosa Ma la mia stu messa Dai, sono veni Dobbiamo dare 11, 15 No, la bymmo No, la bymmo No, la bymmo No, la bymmo Sì, vediamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.